Musica Musica Gara fra Nonna Toio e squadra di calcetto, bondeggio di 2 a 0 per la nonna, vediamo Barbieri in zona offensiva, risponde ottimamente Parisi, sarà calcio di punizione già battuto, cercare Visconti di testa, la parata comoda di Parisi. Ancora Parisi in verticale, cercare Scognamiglio, la sponda di testa, ottima per Peruso, contro Visconti, ancora Peruso, lavora di fisico, prova a tenerle in campo, visce fallo Peppe Peruso, sarà calcio di punizione, seguiamo la battuta di questa punizione. Vediamo Peruso, direttamente in porta, padrone deviato, termina fuori. Non portiere fa, Scognamiglio, provola per Della Monica, puoi ripartire con la scuola di calcetto, con Torino, ancora Torino, all'aria per il cugino Gianni che è proprio il destro, padrone alto, sopra la traversa. Sì, tornate. Sabbio, portiere. Vediamo Della Monica. Della Monica è lungo rilancio, intercettata da Torino, che regala la rimessa agli avversari. Va Scognamiglio alla battuta di questa rimessa, tocco per Boselli, lo gira per Peruso, che prova il sinistro. Donne alto, ancora Artina, fa viaggiare Giovanni Torino, prova a salire, ancora Torino, rientra, tocco per Gianni, sopra a superare Boselli, il tocco per Visconti. Ora Visconti prova a rientrare, Visconti, la palla per Giovanni Torino, attaccato da Scognamiglio, palla per Barbieri, destro, direzione di Zinno e Parisi. Poi Scognamiglio, contro Gentile, Scognamiglio il resto è incrociare, la parata di Artina. Ancora Torino, fasi concitatissime di gioco, ancora Gianni Torino, intercetta Zinno, poi Della Monica, rientra. Ancora Gianni Torino, un paio di finte, Gianni Torino un paio di numeri, bravo un destro, direzione Peruso. Cambia tutto, cercare Scognamiglio, la mette giù. Scognamiglio ancora contro Gentile, Scognamiglio, prova ad andare Scognamiglio, chiuso. Fallo laterale. Però Scognamiglio per Boselli che la alza, sarà caccia di punizione, ha subito fallo Boselli. Andrà Peluso con il sinistro. Vediamo se andrà con la Trivelo con il destro. Vediamo l'ultima azione. Isro Peluso, scusate, Barberi è ancora Peluso. Due a Z, scusate il calcetto, entriamo qui il nostro collegamento.